Abbiamo scoperto di questa cosa qua qualche anno fa, si chiama Custom Lego e praticamente è la personalizzazione di quazzetti Lego, la Lego per politica aziendale non fa nulla che riguardi guerra o militaria e in questo mondo qua ci siamo resi conto che mancavano tutti i corpi diciamo italiani e allora abbiamo pensato di farli noi, abbiamo deciso di investire in questa tecnologia e di iniziare a stampare sulle minifigure Lego le divise dei soldati italiani, tutto ciò che riguarda la componentistica a corredo della minifigura l'abbiamo disegnato, progettato e realizzato noi con la stampa 3D, dopodiché viene decorato, aerografo e a mano ed ecco che nasce la minifigura dell'alpino, della seconda guerra mondiale, dello sciatore Montecervino oppure dell'alpino moderno, in questo caso si differenzia tra Taurinense e Giulia con le loro nappine blu e bianca e con le pecce sul braccio che variano nel dettaglio anche in questo caso tra Giulia e Taurinense in più abbiamo fatto poi i paracadutisti, abbiamo fatto i piloti delle frecce tricolori che quest'anno compiono il centenario e sono nati una serie di prodotti che sono effettivamente unici al mondo perché non c'è nessun altro che li fa, almeno con questo tipo di dettaglio